A distanza di due anni e mezzo dall'insediamento del Consiglio regionale si rinnovano i vertici di Palazzo Moffa e nei giorni successivi il presidente Paolo Frattura metterà mano al riassetto della Giunta. Un riassetto, peraltro, preannunciato inutilmente circa due anni fa, quando il governatore voleva estromettere Massimiliano Scarabbeo, colpevole, a suo dire, di non essersi allineato alle primarie del PD né con Matteo Renzi né con Michela Fanelli. Il giro di Boa di metà mandato mette a rischio però non tanto la compattezza dell'alleanza di centrosinistra, ma gli equilibri interni del PD. Infatti, dopo un anno di sostanziale silenzio con un partito pressoché immobilizzato e appiattito sulle posizioni del presidente, i parlamentari Danilo Leva e Roberto Ruta hanno chiesto, in sintonia con Francesco Totaro, la convocazione dell'Assemblea regionale paralizzata dal 27 ottobre 2014. Sui programmi per la nostra regione e sulle alleanze di governo, chiediamo il confronto e il pronunciamento democratico dell'Assemblea regionale, organo a cui spettano queste scelte per statuto, hanno scritto i due parlamentari. Intanto Frattura ha incontrato i segretari dei partiti alleati ed ha ufficializzato l'elezione di Vincenzo Cotugno alla presidenza del Consiglio regionale. Sul riassetto della Giunta si discuterà nei giorni successivi, ma la nomina di Carlo Veneziale nell'esecutivo appare scontata. Secondo indiscrezioni poi il presidente nominerà anche alcuni consiglieri delegati, peraltro non previsti dallo statuto, ai quali assegnerà deleghe importanti. Tra questi, sempre secondo i bene informati, ci sarebbe Cristiano Di Pietro, che prenderebbe il posto di Vincenzo Cotugno a Palazzo Vitale con due deleghe strategiche, ovvero programmazione e bilancio. Per l'ufficio di presidenza di Palazzo Moffa, infine, secondo alcuni osservatori, Domenico Dinunzio e Nicola Cavaliere, silurato il 9 aprile 2013, dovrebbero prendere il posto rispettivamente di Cristiano Di Pietro e di Filippo Monaco alla vicepresidenza del Consiglio regionale.